Monta la polemica o la polemica viene montata? Lecita domanda dopo che i media nostrani hanno tanto amplificato una frase di Monsignor Galantino sul non lusinghiero spettacolo che dà di sé gran parte del ceto politico. Immediate le elevate discuti dell'intero arco parlamentare, piccato sul vivo, ma poco impegnato a contestualizzare le parole del segretario della CEI. Ovvero un Alexio Magistralis in onore di Alcide De Gasperi, che tracciava le linee di impegno e l'attualità di uno dei fondatori della Repubblica. E dire che Galantino aveva deciso di non partecipare all'evento pubblico proprio per smorzare le polemiche dei giorni scorsi. Il passaggio in questione ricordava come De Gasperi, comprese come non ci sia nulla di altrettanto potente e forte, di una politica ispirata da valori universali, da cui dipendiamo tutti e a cui tutti dobbiamo rispetto. E qui l'affondo. Certo, la politica non è forse quella che siamo stati abituati a vedere oggi, vale a dire un puzzle di ambizioni personali all'interno di un piccolo harem di cooptati e di furbi. 15 parole strappolate da un testo di oltre 4.500, dai contenuti di alto respiro. La sottolineatura su ciò che determina il giudizio sui politici, una prospettiva storica che fa percepire le grandezze e le miserie di ciascuno, la fiducia nella fede e nella politica, senza la quale, nota il porporato, le società muoiono e la prepotenza dilaga. E quindi la necessità di un impegno missionario verso una grande avventura, quella che Paolo VI definì la forma più alta della carità. Tutt'altro che qualunquismo quindi, anzi, una politica nobilitata nel suo servizio gratuito al bene comune.